Ciao, sono Massimiliano da Martellago in provincia di Venezia e leggo una poesia di Vislava Zimborska per l'iniziativa Un testo per la pace. La fine e l'inizio. Dopo ogni guerra bisogna ripulire. Un po' di ordine da solo non si fa. C'è chi spinge macerie sui bordi della strada per far passare carri pieni di cadaveri. Chi sprofonda nella melma e nella cenere tra molle di divani letto, le schegge di vetro e gli stracci insanguinati. C'è chi deve trascinare una trave per puntellare il muro, chi deve mettere vetri alle finestre e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico e ci vogliono anni. Tutte le telecamere sono già partite per un'altra guerra. bisogna ricostruire i ponti e anche le stazioni. Le maniche saranno a brandelli a forza di rimboccarle. C'è chi, con la scopa in mano, ricorda ancora com'era. C'è chi ascolta, annuendo con la testa non mozzata, ma presto gli gireranno intorno a altri che ne saranno annoiati. E chi talvolta dissotterrerà da sotto la siepe argomenti corrosi dalla ruggine e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti. Chi sapeva di che si trattava deve far posto a quelli che ne sanno poco, meno di poco e infine assolutamente nulla. Sull'erba che ha ricoperto cause ed effetti c'è chi deve starsene disteso con una spiga tra i denti, perso a fissare le nuvole.